Pirlo con la sciocchezza, poi Pogba prova a recuperare il pallone, c'è Pirlo, forse c'è la falla di Pogba, avanza Pirlo, palla a cercare Llorente, ottima chiusura ancora di Burdisso, un tentativo di Casseris che poi ha un grande guinzo, questo come sottolinea poteva essere un grande coppia di Brigeno perché erano...